100 milioni di euro abbiamo stanziato come governo della regione siciliana a favore delle famiglie più disagiate, di quelle che ormai vivono nella esasperazione, non sanno più cosa mettere a tavola, non hanno più nulla da mangiare. 100 milioni che saranno distribuiti secondo criteri che comborderemo con l'Anci Sicilia. Qui da noi dobbiamo combattere non soltanto l'emergenza sanitaria ma anche quella economica e bisogna che il governo nazionale faccia, e mi auguro presto, anche la propria parte.